Shutdown letteralmente significa chiusura e la crisi dei conti pubblici statunitensi ha infatti chiuso molti cancelli delle principali attrazioni turistiche a stelle strisce. Anche Washington non è stata risparmiata, ma per i turisti in visita alla capitale degli States la consolazione arriva dal museo d'arte moderna Phillips Collection, dove è stata inaugurata proprio in questi giorni quella che si annuncia essere una delle più grandi mostre dedicate a Van Gogh degli ultimi 15 anni.